Cittadella dello Sport, avanti il modello di gestione in house da parte del Comune. Con settembre riparte a pieno ritmo l'attività anche alla Cittadella dello Sport, risolto il braccio di ferro fra ente proprietaria degli impianti e concessionaria. Oggi va avanti il modello di gestione in house da parte del Comune che si pone il problema di ridurre le spese energetiche, prima ancora di pensare a un nuovo modello di gestione della storica struttura sportiva. Gli uffici comunali stanno vagliando l'ipotesi di accendere un mutuo con il credito sportivo per ottenere un importante finanziamento con cui si possa definire un progetto di massima per l'autonomia energetica degli impianti per abbattere notevolmente le spese correnti. Un progetto che sarà oggetto di approfondimento nei prossimi giorni da parte dell'amministrazione comunale che ne illustrerà i dettagli. Dopo aver espresso le proprie preoccupazioni per l'astottigliamento del numero della società sportiva, il presidente del Cone, Lido Schiavo, scruta all'orizzonte puntando i riflettori proprio sulla cittadella dello sport. La mia recente dichiarazione è stata equivocata, dice, ho definito stupido non l'agire o lo stato mentale dei dirigenti della canottiera Ortigia, la quale riconosco come eccellenza dello sport estragusano, bensì la scelta di sottoscrivere una convenzione che impegnava la stregua di un progetto di finanza, una ASD priva di personalità giuridica e capacità imprenditoriale. Meglio sarebbe stata la creazione di un consorzio fra pubblico e privato al quale affidare la gestione degli impianti dove ognuno avrebbe potuto agevolmente sostenere il proprio ruolo e i costi di competenza attraverso un consiglio d'amministrazione misto. Una indicazione di almeno cinque anni or sono, incalza Schiavo, che quella convenzione proposta dal Comune non era idonea al bisogno ma naturalmente non venne ascoltato. Poneva troppe obbligazioni alla società concessionaria, fra le quali l'accesso al credito sul quale non avrebbero potuto prestare garanzia sull'immobile, non essendone legittimi proprietari e troppe limitazioni sull'uso della struttura. Nel firmare la convenzione si trattò di superficialità in quanto all'ente e proponente si trattò, a mio avviso, di vera e propria incompetenza. Grazie.